Comandante, cosa cambia da oggi per quanto riguarda i messaggi dei pescatori del porto di Pescara? Sicuramente è una bella opportunità creata per loro dal FLAG, quindi dal Comune e dall'autorità di sistema del Mar Adriatico Centrale di Ancona e da noi delle Capitani di Porto che abbiamo espresso il nostro parere favorevole per quanto riguarda la sicurezza a questa lodevole iniziativa che consentirà una sistemazione molto più organica degli attrezzi di pesca e anche un recupero urbanistico da parte del Comune. Si va incontro alle esigenze della marineria in questo senso? Certo, sempre incontro alle loro esigenze per una categoria molto disagiata a causa del noto problema cronico dei fondali del porto sul quale stiamo lavorando e speriamo di avere risultati nei prossimi mesi. Sono in corso i lavori della nuova barriera Molo Nord che sicuramente serviranno a recuperare un dragaggio migliore perché riparerà dai venti del settore nord, nord orientale e avremo dei miglioramenti nei prossimi mesi sicuramente. Il ripristino del passo di accesso è stato fatto ultimamente per consentire di dare una cornice di sicurezza ancorché minima ai pescatori in entrata e in uscita. Però un'altra tranche di dragaggio molto più sostanzioso verrà fatto appunto appena si risolverà il problema di dove andare a conferire i materiali che purtroppo, come non tutti sanno, dai vari interventi che ho sentito sulla materia del dragaggio non sono di facile smaltimento perché inquinati.